L'acqua, quindi a danno della cittadinanza e del bilancio del comune, che chiaramente incide su tutto, ha una cifra enorme, quindi non è che noi abbiamo la fonte a Marano e la stiamo praticamente dando a un privato, noi cerchiamo di offrire a Marano insieme con gli altri comuni, un servizio migliore e ripeto, Marano non può per legge, per condizioni, per il dissesto che noi ci siamo trovati sulle spalle, praticamente non può fare municipalizzate in house.